E' stato un fine settimana di controlli straordinari quello trascorso per il commissariato di polizia di Fano che su disposizione del questore Lauriola ha impiegato numerose pattuglie con il contributo del reparto prevenzione del crimine della provincia di Perugia. L'attività ha portato all'arresto di tre persone sulle quali pendevano già provvedimenti giudiziari e ha visto anche una richiesta di aiuto da parte di un padre minacciato dal proprio figlio con una mazzetta da muratore. All'arrivo delle forze dell'ordine a Bellocchi il giovane in preda a Durraptus si era già accanito contro il portone di casa e ha tentato di colpire un poliziotto con un cacciavite ferendolo alla tempia. Immobilizzato subito dopo è stato portato all'ospedale per i provvedimenti sanitari e denunciato per minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.